Buon martedì 11 agosto, il Napoli ha giocato qualche giorno fa però volevo comunque fare questo video e voglio iniziarlo con i miei complimenti che non valgono nulla per il gol di Messi un gol che a mio avviso può essere uno spot alla determinazione in questo periodo in cui nel calcio fanno la gara a chi si tuffa di più lui fa una cosa stratosferica perché doppia finta va via in mezzo a due poi cade, rimpalli, si rialza, altra doppia finta lui sta cadendo e nel cadere fa un tiro a giro che Ospina non vede partire e anche a fil di palo con una forza tale da comunque mettere in difficoltà un portiere cadendo non è facile fare un gol del genere chiusa questa parentesi parliamo del Napoli il Napoli a mio avviso aveva iniziato molto bene la partita col senno di poi però penso che fosse più una cosa quasi fumosa un po' astratta quando sai che vieni divorato da un leone magari e provi a gridare e sembra che hai qualcosa da dire ma in effetti non hai niente da dire nel senso io ho trovato un Napoli che per metà della formazione non era pronto per questa partita non parlo a livello tecnico parlo proprio a livello mentale possiamo vedere infatti che già solo l'atteggiamento con cui un giocatore lavora il pallone anche solo i passaggi che fa capisci se è tra virgolette coraggioso o è intimorito io posso ho visto un Mario Rui in partita determinato visto un insigne determinato sempre più bandiera di questo Napoli e loro quando lavoravano la palla erano a testa alta a guardare avanti altri giocatori meno pronti sembrava per magari per un po' di foga per un po' di che fossero tutti nella partita così non è stato il problema del Napoli secondo me è un po' il centrocampo perché sulle fasce lo stesso Gattuso lavorava bene anche con il Milan nelle fasce le catene funzionano da una parte abbiamo Mario Rui abbiamo Zielinski abbiamo Insigne che tra di loro lavorano bene dall'altra c'è Cajéon Fabian Ruiz e Di Lorenzo lavorano bene ma il problema del Napoli è che tra le due catene non c'è connessione ho visto un Demme lavorare troppo basso troppo lontano anche lì l'atteggiamento suo era esclusivamente passaggi all'indietro passaggi a Coulibaly passaggi a Manolas troppo giocare all'indietro infatti nella zona centrale della tre quarti del Barcellona il Napoli ha prodotto poco niente e questo secondo me deve lavorare per la stagione futura Gattuso Mister Gattuso poi per il resto volevo sempre parlando di giocatori pronti volevo spezzare una lancia perché ho sentito molto criticato Coulibaly è vero ha fatto qualche disattenzione ha causato rigore però se noi andiamo a vedere l'atteggiamento con il quale si è proposto Coulibaly rispetto anche a Manolas che era nascosto nascosto Coulibaly ci ha provato per atteggiamento lui andava faceva proponeva poi lì anche il rigore è un po' una leggerezza nel senso quasi ti senti più forte più sono quelle disattenzioni quelle errori di sottovalutazione non non saprei penso che il concetto sia passato ha avuto una leggerezza però di concetto quello che adesso Napoli non ha perché i suoi giocatori non hanno quell'esperienza che ha i giocatori del Barcellona è di affrontare certe partite sicuramente anche con degli errori ma un atteggiamento così propositivo da allenatore io mi farebbe piacere insomma vederlo in nei miei giocatori io posso anche analizzare da questo che penso sia una scelta di Gattuso quella di dare più responsabilità a Coulibaly infatti ho visto una cosa che lo stesso mister faceva al Milan con Romagnoli che in difficoltà lasciava lo scarico al portiere esempio palla al terzino lasciava lo scarico al portiere e faceva alzare Romagnoli quasi sulla linea dei centrocampisti a prendere palla quello l'ho visto fare a Coulibaly nel Milan lo faceva solo Romagnoli non lo faceva Musacchio quindi vuol dire che mister Gattuso si fida del suo centrale e gli fa fare anche una specie di impostazione per il resto poco altro da dire giocatori nascosti ho detto il giro palla demme fuori dal gioco secondo me il secondo tempo tolto che la partita è finita al primo tempo il secondo tempo con Lobotka un po' meglio un po' più propositivo un po' più spavaldo il Napoli ha fatto un po' meglio poi con un Barcellona che aveva tirato i Reimi in barca poi se serviva li ritirava fuori e aveva tutto sotto controllo io ho notato concludo questo video con l'emblema che secondo me è stato del Napoli in questa partita ed è Fabian Ruiz il Napoli in questa partita aveva paura aveva paura e si vedeva perché quando tu fai una cosa bella e poi fai una cosa sbagliata per paura e lì hai cancellato la cosa bella esempio Fabian Ruiz ruba un pallone molto importante sulla tre quarti verso sinistra se non ricordo male ruba un buonissimo pallone ed era un break un break del Napoli che poteva far male quando c'è stato il momento della giocata ha cercato insigne e gli ha dato un pallone arretrato ha perso il tempo di gioco e il Barcellona è rientrato lì io ho fatto una cosa buona devo farne un'altra devo farne un'altra non devo accontentarmi di quel pallone rubato se poi non porta niente altre due situazioni sempre che hanno visto Fabian Ruiz palloni timidi deboli passaggetti così che che hanno permesso al Barcellona magari di di portare un pressing di rubare palla di fare un intercetto e quella è paura quella è paura non non sei limpido non sei tranquillo e e vai a fare quello che secondo te è la cosa più semplice ma lì in quelle partite lì serve sfruttare un errore un break un qualcosa per fare del male a una squadra che comunque è straorganizzata anche se in difesa qualcosina mettendo sotto pressione concede però ci vuole un po' di spavalderia alla fine siccome Napoli doveva giocarla più spavalda perché non aveva niente da perdere concludo qui questa mia piccola analisi spero di aver portato qualcosa magari che non era stato visto e ci vediamo al prossimo video